Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code attratti sempre a causa del traffico intenso anche in Fipi Litra, Lastra Signe e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece code in uscita a Colle Valdelsa Nord in direzione Siena a causa chiusura carreggiata per albero pericolante. E chiudiamo con la 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!